Shant Bio Edge Abbiamo la densità maggiore come buro cacao che si svita e basta ruotarlo ed esce dalla parte che lo contiene un jig semplicemente spalmarlo sui appendici sullo scuro e il jig si inzuppa di questo materiale che al nostro olfatto non è molto gradevole ma quello dei bassi è molto gradevole andiamo prendiamo la canna lo inseriamo una volta e poi siamo pronti per poter lanciare altra densità di Bio Edge è la densità liquida che serve per i vermoni semplicemente si alza il tappino lo si applica sul vermoni schiacciando e bastano 3-4 voci per poter pescare fare i venti lanci e poi andarlo a riappiccare per una seconda voce